Nella prossima puntata di Medicina Amica, programmata per martedì 26 marzo in prima serata in diretta, ricorderemo al nostro pubblico i principi del metodo ruffini, la cura di oltre 100 patologie della pelle e delle mucose attraverso l'uso dell'ipoclorito di sodio. Uno degli aspetti più interessanti del metodo ruffini è anche la sua applicazione nel campo del papillomavirus, di cui parleremo ampiamente con il dottor Roberto Petrella, ginecologo in prima linea nello studio dei danni da vaccino correlati al mimetismo molecolare. In studio anche Paolo Ruffini, divulgatore dell'omonimo metodo e figlio del dottor Gilberto.